Benvenuto a Economy Up. Desiata, lei è un manager Enel, il country manager in Francia e in Belgio, è un esperto di strategie aziendali, è un appassionato di scacchi, ma che cosa c'entra con l'arte e come è arrivato a PPT Art? L'arte sicuramente è una passione personale, un po' come gli scacchi, come il latino, come le strategie. L'iniziativa nasce un paio di anni fa da parte di un gruppo di manager appassionati d'arte, che alla fine si sono incontrati con degli esperti d'arte, che in Italia diciamo ce ne sono tantissimi, proprio per rivalutare e riqualificare il mondo aziendale agli occhi degli artisti. Noi riteniamo che il mondo aziendale sia dotato di una sua complessità e bellezza e in quanto tale può essere oggetto d'arte. Ecco, lei proprio parlava del rapporto con le aziende, lei insegna tra l'altro anche Corporate Art alla LUIS a Roma. Che cos'è la Corporate Art? In due battute e poi torniamo su PPT Art. Oggi l'azienda è chiamata a sponsorizzare eventi d'arte, musei, mostre ed esibizioni, senza però avere una possibilità di parlare di sé in maniera diretta attraverso l'arte. Per noi la Corporate Art è l'immagine aziendale che viene interpretata da artisti. Ecco, quindi che cosa fa in questo senso PPT Art, che lo ricordiamo poi è PowerPoint Art? PPT Art riprende la tradizione tutta italiana di cento anni fa in cui era normale per un'azienda rivolgersi ad artisti per elaborare una campagna pubblicitaria, il packaging di un nuovo prodotto, un'opera per celebrare una particolare transazione finanziaria. Lei tra l'altro diciamo Campari de Pero, per ricordarci. Campari de Pero, esattamente. E tra l'altro questo sarà proprio l'oggetto di una mostra, la Galleria Nazionale di Arte Moderna, che partirà il 25 giugno, la mostra di Corporate Art, che ripartendo dalle origini cento anni fa, de Pero, Campari, Martini, Strega, arriva fino ai giorni nostri, perché queste collaborazioni ancora esistono, anche se rimangono sempre un po' sotto traccia. Ecco, quindi concretamente su PPT Art le aziende quindi commissionano dei lavori agli artisti? Sì, PPT Art era nata come un'iniziativa puramente culturale, poi visto l'interesse che ha riscontrato è diventata una start-up, una start-up che è anche la prima piattaforma di crowdsourcing di arte. Come funziona? Un'azienda viene da noi, come se andasse da un'agenzia di comunicazione, un'agenzia pubblicitaria, insieme all'azienda prepariamo il brief per la campagna pubblicitaria o per il packaging del prodotto, lo lanciamo a ben 2200 artisti, gli artisti che ritengono di poter interpretare questo brief propongono degli sketch, dei bozzetti e noi presentiamo all'azienda fino a 100-200 bozzetti di creatività tra cui scegliere. Ecco, quindi il vostro modello di business è immagino una fee sui lavori che vengono affidati agli artisti? Esatto, noi abbiamo un nostro margine sulla transazione, abbiamo poi soprattutto un margine relativo alla consulenza strategica e di immagine che facciamo per le aziende, di cui l'arte rappresenta una parte importante all'interno di questi lavori di consulenza e di immagine. Siete nati da poco meno di un anno, ma avete già fatto qualche attività con qualche azienda che si può raccontare? Sì, noi abbiamo fatto, allora parlerei innanzitutto del progetto per le Nazioni Unite in vista dell'Expo 2015. Quello lo vediamo dopo, un attimo perché siamo nell'area no profit, se non sbaglio, della vostra attività. Allora, come azienda abbiamo recentemente terminato la copertina dell'informatore farmaceutico che celebrava quest'anno i 75 anni di vita. Proprio per celebrare questo importante passo, Edra, la casa editrice, ha voluto lanciare un concorso di artisti sulla nostra piattaforma per realizzare la nuova copertina. Abbiamo contattato esclusivamente artisti italiani, 500, abbiamo ricevuto 80 bozzetti che abbiamo presentato all'azienda e sono stati selezionati tre, quindi sono state realizzate tre opere d'arte, ma solo una poi è stata scelta per la copertina finale. E quindi, secondo la logica del crowdsourcing, solo l'artista selezionato viene pagato, viene ricompensato, gli altri no, che hanno fatto le proposte, i loro bozzetti. Allora, in questo caso ci sono stati tre artisti vincitori che sono stati remunerati per produrre l'opera e abbiamo voluto incentivare anche la creatività premiando dal quarto al sesso posto con ovviamente un premio simbolico, un contributo al rimborso del preso diere. Certo, certo. Ecco, che cosa state facendo invece per l'ONU all'Expo? L'ONU è un bellissimo progetto per l'Expo 2015. Di fatto le Nazioni Unite ci hanno chiesto di rappresentare tramite artisti esclusivamente dai paesi in via di sviluppo i sei messaggi chiave che porteranno all'Expo. Sono i messaggi della sfida fame zero e dei diritti universali della donna. Abbiamo quindi selezionato, noi abbiamo una piattaforma di 2200 artisti da ben 70 paesi diversi e abbiamo selezionato una serie di opere da artisti dei paesi come Sudan, Afghanistan, Libia, Siria di difficile accesso. Quindi qui c'è tutta la potenzialità dello strumento di internet che permette di valorizzare artisti che sono geograficamente svantaggiati. E questo è stato un po' immediato che le Nazioni Unite hanno voluto passare. Sicuramente una nuova frontiera che anche grazie al digitale è possibile sviluppare. Tanti auguri di buon lavoro. Grazie, grazie a voi per questa opportunità.